L'ex vincitrice del Grande Fratello, Nikita Pelizon, ricorda la sua partecipazione al reality show di Alfonso Signorini e chiarisce una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Antonella Fiordelisi. Nikita Pelizon ha rilasciato una nuova intervista a Superguida TV in cui è tornata a parlare della sua fortunata esperienza al Grande Fratello VIP, svelando come è cambiata la sua vita dopo la vittoria. Da quando è uscita dal reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, l'ex Jeffina ha dovuto confrontarsi anche con le critiche e gli attacchi degli haters. All'inizio è stato difficile perché tendevo a voler piacere a tutti, ma è qualcosa di disumano. Ho lottato tanto con me stessa per imparare ad accettarlo. Il rapporto con gli haters è cambiato quando ho capito che bisogna accettarli e forse, se qualcuno prova fastidio nei tuoi confronti, è perché risvegli in loro qualcosa. Ho partecipato ad un reality per fare un'esperienza, ma in realtà è stato anche per un senso di rivalsa nei confronti di quei compagni di classe che mi dicevano che non ce l'avrei mai fatta. Dopo il reality ho deciso di tirare fuori tutto quello che avevo dentro da anni. Nella casa di Cinecittà, Nikita ha conosciuto e si è legata ad Antonella Fiordelisi. Una volta terminato il programma, però, le due hanno preso strade diverse, deludendo tutti i loro fan. A proposito della fine della loro amicizia, la giovane vincitrice del GF VIP ha confessato A me personalmente piace poco quando una persona che lavora con i social li utilizza invece che per aiutare un'amica per buttarle addosso ancora più fango. Conoscendo Antonella e conoscendo perfettamente quanto tempo trascorre sui social e il modo in cui li utilizza e quanto è brava a fare il suo mestiere. Personalmente le scuse non le accetto mandate tramite messaggi whatsapp sapendo che mi aveva portato 200.000 persone contro in un momento di danno mediatico. Lei non c'è stata in quei giorni lì, non mi ha cercata per chiedermi come stessi e non c'è stata nel rispondermi alle mie chiamate. C'è stata però sui social per prendermi in giro e per mandarmi ulteriore odio. L'amicizia per me è tutt'altro. Non ci penso lontanamente a recuperare questa amicizia. Chiuso il capitolo Grande Fratello VIP, la Pellison ha parlato dei suoi progetti futuri rivelando che le piacerebbe partecipare a Tale e Quale Show. Il Talent Show di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Tale e Quale Show è un bellissimo programma e sarebbe bellissimo partecipare. Mi sto concentrando molto su altri progetti e non riuscirei a fare i casting. Progetti in arrivo? Sto preparando la prossima mostra d'arte all'estero, in Spagna. Sto partecipando come giudice anche ad un nuovo talent, Carpe Diem con Patrizia Pellegrino. È un'esperienza divertente. Non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati con le ultime novità su Flash Trend Ita.